Ciao! Ciao! Sono Martino, ormai un po' ci conosciamo, vengo da un piccolo paese nel nord dell'Italia che si chiama Caldonazzo in provincia di Trento. Ho cinque fratelli, quattro fratelli e una sorella e una famiglia molto bella che mi mi educato da fede fin da piccolo. Ho sempre amato giocare a basket, trovarmi a cena con gli amici, sonare, cantare, andare in montagna. Poi ho fatto l'università, ho studiato chimica, e all'università ho incontrato un prete, una comunità molto bella, così è nata la vocazione. Hey! Ma Ok. Scusi, posso chiedere un uomo? Ok. Beh, innanzitutto ti auguro di essere un uomo, di diventare un uomo.